Ci aspettavamo più discontinuità? Sì. Cambiamo idea sull'immigrazione? Assolutamente no. Sono le parole del canturino Nicola Molteni, deputato leghista, già sottosegretario all'interno durante il primo governo Conte, all'indomani dell'annuncio della squadra di governo di Mario Draghi. Tre ministri al PD, tre alla Lega, quattro al Movimento 5 Stelle, tre a Forza Italia, uno a Italia Viva e uno all'EU. Gli altri otto sono tecnici, tra i quali Luciana Lamorgese, già ministro dell'interno durante il Conte bis e riconfermata da Draghi, il nome più difficile da accettare per la Lega. In questo senso ci aspettavamo più discontinuità, ribadisce Molteni, ma la nostra posizione non cambierà di una virgola, i confini dell'Italia e quindi anche quelli europei vanno protetti e difesi, non arretriamo di un metro. Ciò detto, sono molto soddisfatto dei tre ministri leghisti e dei ministeri di cui ci occuperemo. Siamo una provincia di piccole imprese, massacrate dal precedente governo e ora allo sviluppo economico c'è Giorgetti, una sicurezza. E' invece ancora tumultuosa la base del Movimento 5 Stelle, almeno la parte che chiede un nuovo voto su Rousseau e contesta l'ingresso dei pentastellati nella larghissima maggioranza a sostegno di Draghi. Stiamo assistendo a un dibattito interno infuocato, come è prevedibile dopo la composizione del governo, commenta il deputato lariano Giovanni Curro. Prima del voto di fiducia, previsto per giovedì, bisognerà discutere le linee programmatiche. Organizzeremo anche assemblee territoriali online. Io riunirò tutti gli attivisti di Como, Lecco e Sondro per confrontarmi. Escludo che si possa tornare a votare su Rousseau. Ciò che scontenta molti attivisti, continua Curro, è vedere alcuni ministeri in mano tecnica e altri ministeri in mani politiche, ma di altre forze. Solamente quando verranno rese note le linee programmatiche sapremo però un quanto un ministero sarà strategico nell'azione di governo. Governo i cui equilibri, conclude Giovanni Curro, verranno anche bilanciati dalla composizione del sottogoverno. Mentre Lega e Movimento 5 Stelle devono fare i conti con una parte dell'elettorato che non condivide l'ingresso in maggioranza, PD e Fratelli d'Italia, pur da banchi contrapposti, sono più tranquilli nelle rispettive posizioni. Fratelli d'Italia resta convintamente all'opposizione. Scrive su Facebook Alessio Butti, deputato lariano, discontinuità, devo ripassarne il significato. In piena fase emergenziale, confermare speranza alla salute, di Maio agli esteri e la Morgese all'interno è stato un ardito esercizio di continuità o discontinuità. Anche sul termine migliori devo approfondire. Questi sono migliori rispetto a chi, si chiede Butti. Di parere diverso, diametralmente opposto, è Chiara Braga, deputata lariana del Partito Democratico. La squadra vede la presenza di ministri di grande valore, che sono certi ammetteranno le loro competenze a servizio del Paese in una fase così difficile per la gestione della pandemia e le relative ricadute economiche e sociali.